La consulta civica cittadina ha deciso di costituire un comitato di esperti per esaminare il contratto con Caltacqua per la gestione del servizio idrico. Sono sei componenti ai quali si aggiungerà il sindaco Giovanni Ruvolo. A breve avremo un incontro con Caltacqua, un po' per pianificare l'attività da qui in avanti. Di recente ho avuto un incontro con una rappresentanza di cittadini riunita attorno alla consulta civica e ho registrato molte delle difficoltà che molte famiglie vivono in questo periodo storico. Di questo ne parlerò direttamente con i dirigenti di Caltacqua per trovare delle soluzioni che possano sostenere le fasce deboli della popolazione. Rivedremo tutte quelle condizioni che riguardano il rapporto tra amministrazione e Caltacqua perché i servizi siano efficienti, il costo sia equo e soprattutto si prenda atto che tutte le varie interruzioni di servizio che abbiamo registrato in questo ultimo periodo e che sicuramente non sono attribuibili a Caltacqua ma che devono essere prese in considerazione anche come attività compensativa nei confronti dei cittadini di sé.